Rapina in pieno giorno oggi all'Arcella, lunghi minuti di paura in un negozio di vi aspetti verso mezzogiorno. Entrato nel negozio un uomo minacciando con un coltello ha rapinato di 600 euro e del cellulare la titolare dell'attività. Ha poi chiuso la donna nel bagno per darsi alla fuga. I carabinieri del gruppo radiomobile dopo aver liberato la negoziante si sono messi alla ricerca del malvivente. Per rintracciarlo saranno fondamentali i racconti della vittima e gli eventuali testimoni che i carabinieri stanno cercando di recuperare.